L'altra metà del cielo sopra Berlino. L'attrice francese Juliette Binoche presiede la 69esima edizione della Berlinale. Parecchi volti noti, soprattutto da queste parti, come il regista turco-tedesco Fatih Hakim. Al Festival del Cinema in Germania quest'anno è fortemente rappresentata anche la celluloide al femminile con registe come la danese Lon Scherfig, realizzatrice di The Kindness of Strangers. È la storia di quattro persone in crisi a New York, con l'attrice americana Zoe Kazan, che ha il ruolo di una donna maltrattata dal marito. Sono 17 i film in lizza per l'orso d'oro.